Fiera campionaria di Novara, tanti gli stand, tanti i prodotti esposti e naturalmente va sempre per la maggiore le automobili che riscuotono sempre l'interesse di tutti i visitatori. Appena si entra nella fiera campionaria di Novara si può ammirare le vetture esposte dalla concessionaria Totauto di Novara. Siamo qui con Roberto che ci aiuterà a capire meglio il prodotto che Totauto sta esponendo in questo momento alla fiera campionaria. Ciao Roberto. Ciao, grazie e buonasera a tutti. Noi siamo qua in esposizione con delle vetture, sia con il nostro marchio Suzuki e il marchio Kia. Tutti i prodotti freschi, tutti i prodotti appena usciti, diciamo modelli nuovi delle auto. Noi siamo comunque a Novara, è una traversa di Corso Milano via delle Ani che è proprio sulla strada per andare a trecate. Ecco, vedo qui soprattutto la nuova Inis di un bellissimo colore arancione, adesso io non entro molto nel dettaglio. Comunque qui avete proprio esposto delle novità come vedo anche la nuova Suzuki Swift. Abbiamo la nuova Swift che è il nuovo motore, tra l'altro col motore anche Hybrid, la stessa cosa anche con la Suzuki Inis col motore Hybrid, tra l'altro sono dei bei motori. E questa qui tra le altre cose la fanno anche tutte e due quattro ruote motrici, oltre al motore benzina 1.2. Poi anche con Kia, se vi interessa vedere il prodotto Kia, abbiamo la nuova Kia Picanto, con un ottimo motore 1000 e il motore 1200 GT Line come quella che c'è in esposizione e la nuova Kia Rio. Che è alle nostre spalle. Che è alle nostre spalle, certo. Ecco, quindi io direi che veramente ce n'è per tutti i gusti, anche perché diciamo che al di là dei prodotti che esponete qui alla fiera campionaria, anche per motivi chiaramente di spazio, ma la gamma che può offrire la concessione della tutta auto con i marchi appunto Suzuki e Kia è ampia. Si va anche non solo sulle utilitarie, ma anche ad esempio mi viene in mente i SUV. Certo, abbiamo esposto il prodotto piccolino, ma poi abbiamo anche il SUV, abbiamo il BSUV, abbiamo delle vetture delle berlina, delle station vehicle, dei monopoli, insomma abbiamo una vasta gamma, venite pure a trovarci anche per conoscere i nostri prodotti. Quindi l'invito che possiamo fare a chi viene è venirvi a trovare, sicuramente anche perché ribadisco, tutta auto è proprio all'ingresso della fiera campionaria, ma poi con magari più tranquillità e più calma, anche per entrare un po' più nel dettaglio, magari venirvi a trovare in concessionaria. Grazie mille Roberto. Grazie, buonasera a tutti, grazie, vi aspetto numerosi. Arrivederci. Continuiamo il nostro giro panoramico negli stand della fiera campionaria di Novare, siamo qui allo stand della ditta Centauro. E quando si parla di ditta Centauro si parla di smaltimento amianto, rifacimento tetti, ma per parlarci meglio della ditta Centauro abbiamo qui Paola e Benedetta che ci aiuteranno a capire meglio cosa potete venire a vedere qui allo stand Centauro. Buonasera a tutti, noi siamo alla Centauro, ci troviamo a Veveri in via Bermano 37, ci occupiamo di smaltimento amianto e rifacimento tetti. E direi che ci sono anche delle promozioni qui in fiera, perché chi viene qui in fiera può avere i suoi benefici. Infatti se ci contattate nei giorni di fiera, lasciate il vostro numero allo stand qua in fiera, avrete lo sconto sull'IVA. Ecco, quindi direi che ne vale la pena venire, perché insomma magari questi lavori sono da fare a casa, uno non sa dove rivolgersi e rivolgendosi a voi trova sicuramente le persone. Un'azienda specializzata nel settore, perché è un settore molto delicato che può sicuramente risolvere i problemi dei clienti. Certo, esattamente, ottima qualità e soprattutto un personale all'avanguardia. E questo è importante, grazie mille. Un'azienda specializzata nel settore, perché è un'azienda specializzata nel settore, perché è un'azienda specializzata nel settore. Un altro stand molto importante qui alla fiera campionaria di Innovare è quello dell'Istituto Galilei e per parlare di questo istituto siamo con la professoressa Federica Panetta. Innanzitutto grazie per accoglierci qui nel suo stand. Ecco, quando parliamo di Istituto Galileo Galilei, di cosa parliamo? Allora, l'Istituto Galileo Galilei è una scuola privata finalizzata a raggiungimento del diploma. Prevede corsi diurni e anche serali per chi lavora, perché sono tante le persone che si rivolgono a noi, perché hanno bisogno chiaramente anche in preparazione al loro futuro. I corsi sono regolari o accelerati per chi volesse recuperare più anni. Abbiamo svariati corsi dai licei delle scienze umane, scienze applicate, agli istituti tecnici, elettronico, meccanico, AFM, CAT, che sono dei nomi... La vecchia ragioneria, il vecchio geometra. I gruppi sono sempre piuttosto piccoli per permettere di recuperare al meglio, soprattutto col serale. Se volete vi aspettiamo nella nostra nuova sede che è in via Passalacqua 28 a Novara. Ecco, quindi direi che questo Istituto Galileo Galilei, come ci abbiamo spiegato, per riassumere viene un po' incontro a tutte le esigenze che la persona che si rivolge a voi ha e quindi voi riuscite ad accontentare. Certo, nella maggior parte dei casi sicuramente, soprattutto casi molto particolari anche. Ci impegniamo. Ecco, ricordiamo quindi che potete, chi vuole, se magari chi sta ascoltando e vuole comunque avere informazioni, tranquillamente può venire qui allo stand in fiera. O se no, se vogliamo ripetere, magari l'indirizzo dove venire, magari a prendere anche solo informazioni. Le persone possono venire tranquillamente in via Passalacqua 28, di solito siamo lì dalle 9 all'1 e la sera dalle 18.30 fin verso le 22. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille e buon lavoro. Continuiamo il nostro tour all'interno della fiera campionaria di Novara e con Assunta siamo qui nello stand a parlare di bergamotto. Quindi una cosa molto molto interessante. Ecco, vuoi gentilmente chiarirci un po' l'idea su questo prodotto? Certo, il bergamotto di Reggio Calabria, zona unica al mondo dove si produce questo magnifico agrume che ha tantissime proprietà benefiche per la salute, previene tantissime malattie oltre al fatto che chi ce l'ha comunque le cura, colesterolo, diabete, problemi di ipertensione, insomma tantissime cose. Poi è un agrume multivitaminico quindi fa bene alla salute comunque sia dei grandi che dei bambini. È un negozio che l'ho aperto tre anni fa a Gagliate, proprio si chiama il bergamotto, proprio per farlo conoscere anche nelle zone del nord Italia dove questo agrume è sconosciuto ancora oggi e quindi spero di portare questa cultura di questo bergamotto di Reggio che è una nostra eccellenza tutta italiana. Ecco, vedo tra l'altro tantissimi prodotti perché abbiamo chiaramente un bellissimo cesto di agrumi che è chiaramente la materia prima, ma poi ecco quindi che è questo, ma poi vedo biscotti, vedo tantissimi altri, quindi questo vuol dire che può essere adattato in altre situazioni. Esatto, oggi viene utilizzato per fare tutto, quindi dai dolci, si fanno le marmellate, c'è il miele al bergamotto, si fanno i biscotti, si fanno i liquori, si fanno gli oli aromatizzati proprio per cucinare, anche quindi nella cucina va utilizzato, si fanno i risotti, si fa di tutto oggi col bergamotto. Una volta veniva utilizzato solo per fare l'olio essenziale che poi ce lo comprano le grandi aziende, dei profumi perché è proprio l'ingrediente principale, il fissativo dei profumi, proprio il bergamotto. Beh, ma è incuriosito molto, quindi speriamo di aver incuriosito anche a chi ci sta vedendo e per venirvi a trovare qui alla Fiera Campionaria. Quello che è importante è proprio questo, che è la spremuta, quella che dicevo prima, il bergamotto. Oggi viene utilizzato tantissimo proprio questa spremuta, proprio questa, che la cercano tutti dappertutto, quindi si trova a Gagliate, oggi la potete trovare a Gagliate. Grazie mille Assunta per averci fatto scoprire questo fantastico prodotto come il bergamotto. Grazie. Grazie, grazie a voi, buona serata. Molto interessante alla Fiera Campionaria di Novara, è lo stand del centro ipico Sant'Antonio e con Riccardo vogliamo scoprire un po' di più cosa offre questo centro ipico Sant'Antonio. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, questo nuovo centro ipico abbiamo aperto da circa 15 giorni, offriamo corsi di equitazione per bambini a partire dai 4 anni e adulti, pensione cavalli perché avesse un cavallo e poi niente, siamo a Olengo, vicino alla rotonda, non si entra in paese, si prosegue dritto verso Garbagna, a 200 metri dalla rotonda a destra, la prima cascina, si vede dalla strada, abbiamo una trentina di box, poi una giostra per poter girare i cavalli e maneggio coperto, molto bello, questo è il maneggio con una sabbia che viene usata nei campi olimpici e niente. Quindi riuscite a offrire proprio un servizio a 360 gradi per gli amanti appunto dei cavalli. Sì, esattamente, questo è quello che riusciamo a offrire, non si fanno passeggiate, però diciamo che vogliamo fare una scuola di equitazione da poter portare avanti. Ecco, mi dicevi Riccardo anche per i bambini, quindi anche magari chi volesse far avvicinare il proprio figlio al mondo equestre, quindi quello dei cavalli, può farlo lì da voi? Certo, ci sono istruttori federali, quindi abilitati a poter insegnare, abbiamo degli istruttori che seguono principianti e poi abbiamo un istruttore che segue invece agonisti e quindi che possono poter proseguire a livello più alto quello che è l'attività. Ecco, ricordiamo quindi dove siete per chiudere questo servizio? Sì, siamo a Olengo, ripeto, e dopo la rotonda si prosegue dritto a Garbagna, per Garbagna, 200 metri, si vede dalla strada la prima cascina, cascina Sant'Antonio. L'invito è di venirvi a trovare. Veniteci a trovare tutti così potete vedere al meglio la nostra struttura e quello che possiamo offrire. Grazie Riccardo. Siamo allo stand di Tende e Porte e con Roberto vediamo di conoscere meglio questa azienda. Ciao Roberto. Ciao. Allora, qui alla Fiera Campionaria vedo serramenti, tende, che chiaramente è il vostro cavallo di battaglia, possiamo usare questo termine, ma ci vuoi spiegare meglio di cosa vi occupate, Roberto? Sì, noi ci occupiamo delle tende da sole, tende che siano il modello capottine, che tende a bracci, poi abbiamo zanzariere di vari modelli, varie misure, tutto su misura, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda fuori misura, tutte quelle cose lì e ci occupiamo anche di serramenti che siano in alluminio, legno, legno alluminio, PVC, trattiamo varie cose, anche porte interne, tutte diciamo cose adibite alla casa in serra. Quindi riuscite a offrire proprio un servizio completo perché ha esigenze sia a livello di ristrutturazione che magari di nuove costruzioni. Esatto, sì, noi serviamo sia il nuovo che la ristrutturazione, quindi senza problemi. Ecco, soprattutto in questo periodo che entriamo nell'estate, la nostra zona sappiamo che è invasa da zanzare, direi che è una buona occasione per venirvi a trovare, visto che vedo qui esposte delle bellissime zanzariere. Ecco, ci vuoi magari ricordare, al di là comunque dello stand in fiera che voi siete qui disponibili per i clienti, ma dove possono anche venersi a trovare la vostra sede? Sì, allora noi siamo in corso di esorgimento numero 90D e diciamo che potete trovarci tranquillamente, orari di negozio, quindi non c'è nessun problema, quando volete. Grazie mille Roberto. Salve. Alla fiera campionaria di Novara non può mancare assolutamente lo stand Sky, qui rappresentato dalla ditta Rizzieri e ne parliamo con Giuliano. Ciao Giuliano. Ciao. Allora, cosa offre Rizzieri e cosa offre Sky qui alla fiera campionaria e non solo? Allora, Rizzieri offre questa splendida azienda che è Sky, offre l'assistenza tecnica e commerciale su Sky appunto. È un riferimento per chiunque avesse bisogno o necessità di intervenire sul proprio abbonamento, sul proprio impianto, in quanto ha una rete di professionisti, di antennisti, di tecnici che vanno a casa dei clienti e risolvono problemi qualora ce ne fossero. Sono antennisti storici qui in zona, molto probabilmente chi abita in questa provincia già li conosce perché da anni intervengono su antenne e anche impianti d'allarme. Quindi direi che la vostra ditta in abbinamento a Sky è un abbinamento sicuro, non ci si può sbagliare. Sicuro, certo, professionale, efficiente, performante. Mi ferma lei se no vado avanti. Mi fermo perché voglio farti un'altra domanda. Ecco, quindi venendo qui in fiera avete anche quindi delle, magari delle offerte da proporre ai clienti? Abbiamo sì, sicuramente delle promozioni che comunque si legano alle promozioni nazionali dell'azienda. I clienti diciamo che qui possono trovare diversamente dal call center o dal sito internet magari una persona col quale chiarire qualcosa che magari in altri canali di vendita chiaro non è. È raro che capita per comunque Sky si impegna nel far sì che sia tutto il più fluido e chiaro possibile ma qualora non fosse siamo qua apposta. Anche perché è un buon servizio a volte passa anche semplicemente da una spiegazione, una delucidazione di un'idea o di un eventuale problema di un cliente. Sicuramente sì, meglio una parola in più che una parola in meno. L'invito è di venirvi a trovare perché e conoscere per quei pochi che magari non conoscessero ancora il mondo Sky questa è l'occasione sicuramente buona. Grazie Giuliano. Ciao, vi aspettiamo. Molti gli stand interessanti qui alla Fiera Campionaria, siamo con Fabio e con lui parliamo di FD Impianti. Ecco, vuoi farci conoscere meglio la tua azienda che si occupa di caldaie ma non solo. Noi partiamo diciamo dall'impiantistica idrico-sanitaria, riscaldamento sia pavimento che tradizionale, associamo a questo discorso di climatizzazione e naturalmente anche di assistenza tecnica per quello che riguarda le caldaie e i climatizzatori. Abbiamo marchi importanti di qualità, Wisman, Fujitsu, sopra tutti diciamo, altri marchi come Remea e diciamo operiamo con il discorso di assistenza tecnica da 17 anni per un discorso di impiantistica da 34. Siete una sicurezza. Esatto, cerchiamo la fidelizzazione del cliente proprio per completare il pacchetto diciamo. Ecco, ricordiamo anche magari il vostro indirizzo per chi magari volesse venire a trovarvi anche solo per una consulenza? Naturalmente le nostre consulenze e sopralluoghi sono gratuiti, noi ci troviamo a Novara in corso risorgimento 359, zona Vignale, abbiamo un negozio, un punto vendita dove appunto accogliamo il cliente. Perfetto, grazie Fabio. Figurati, buonasera. Siamo con Luciano della ditta Antica Ferramenta e quando si parla di Antica Ferramenta si parla in maniera particolare, almeno qui allo stand che state esponendo come prodotto, di stufa. Ecco, vuoi chiarirci un po' l'idea appunto di queste bellissime stufe che vediamo qui esposte? Sì, sono stufe a pellet principalmente perché sono le stufe che ormai tirano di più, stufe a legna sono le stufe della nonna ormai rivisitate, ormai stufe fatte tutte in ghisa, risparmio energetico, con un minor consumo di legna e più alta resa termica. Poi vabbè, poi si passa alle caldaie, idro che collega il termosifone, c'è di tutto, di più, dalle caldaie alle stufe all'aria, aria canalizzata, oppure le classiche stufe a legna. Quindi chi vuole scaldare il proprio ambiente, diciamo che può venire qui e trova le persone giuste, ma soprattutto i prodotti giusti. Facciamo noi, facciamo l'impianto, le colleghiamo, le installiamo, facciamo le assistenze, le manutenzioni delle nostre stufe, per tutto quello che guarda le stufe, insomma. Ecco, dove siete? Al di là, chiaramente che uno può venirvi a trovare qui alla fiera campionaria, ma logicamente la vostra sede, dove si trova? Vogliamo magari ricordarlo Luciano? Siamo a Viandrate, via Roma, quindi appena dentro il paese, vicino all'outlet di Vico Lungo, e siamo lì tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalla mattina alle 8 e mezza alle 7 e mezza. Ricordiamo che comunque ne vale la pena venire a visitare il vostro stand in fiera, perché veramente ci sono delle bellissime stufe che, al di là della loro funzione, anche come oggetto estetico, direi che sono veramente molto molto belle. Io sono rimasto veramente affascinato da quanto sono belle queste stufe, quindi anche la ricerca del design, oltre chiaramente poi della funzione principale che hanno. Sì, certo, sono stufe che ormai non fanno solo calorie, però fanno anche proprio arredamento. Sono stufe tutte maioliche, maioliche, oppure la vecchia stufe della nonna di Giza, che comunque fa arredamento, ognuno ha il suo locale, ognuno ha il suo ambiente. Grazie mille Luciano. Grazie a lei. A voi. A voi.